Amiche e amici di Quark, questa sera parleremo di una specie non in via d'estinzione, ahimè, è la specie della famosa gatta morta. Impareremo attraverso questo breve video a riconoscerla e anche a avere delle precauzioni per non cadere vittime dei suoi artigli e della sua voce che per quanto mi riguarda io trovo insopportabile. Ho fatto questa breve introduzione un po' stupida perché effettivamente io mi occupo di voce, mi occupo di energia sonora, mi occupo anche di come le voci comunicano o meno determinate intenzioni e quindi io partirò proprio da questo. In giro potrete trovare tanti video, tante descrizioni, tanti anche articoli sulle gatte morte, ma io mi occuperò di qualcosa che conosco, cioè della energia che attraverso la voce queste persone veicolano. E non so se ci fate mai caso, ma ci sono queste donne che usano questa voce che sembra un po' che la laringe un po' balli sempre, perché appunto loro attraverso, infatti non parlano queste donne molto spesso, queste donne miagolano ed è facilmente riconoscibile questo tipo di voce, questo tipo di energia. Quindi fateci caso, non sono mai delle donne che usano la voce in maniera sincera, né a livello sonoro, né a livello di messaggio. Quindi già semplicemente sentendo questo tipo di frequenze e di vibrazione, noi potremo un po' rizzare le antennine per riconoscerla. Chi sono le gatte morte? Le gatte morte sono, per quanto mi riguarda, perché purtroppo in questo periodo ho avuto modo di conoscerne, mio malgrado, devo sollevare le protezioni evidentemente, sono dei vampiri energetici, cioè sono dei predatori a livello di energia sottile che vivono a scapito degli altri. Molto spesso la gatta morta è la classica persona che in una comitiva monopolizza l'attenzione non esponendosi come potrebbe fare, che ne so, una tigre, una pantera, una leonessa, per fare il paragone dei felini o un lupo, se proprio volessimo fare, ma appunto come fanno le gatte quando sono in calore e quindi devono attrarre il maschio di turno. Quindi cosa fanno? Si fingono deboli, si fingono bisognose di attenzione, non sanno mai fare niente, sono le classiche donne che chiedono sempre aiuto in maniera indiretta al maschio di turno, perché effettivamente le gatte morte vivono e diciamo prosperano, perché ci sono questi uomini poveretti che hanno la sindrome del cavaliere errante, la sindrome del condottiero, la sindrome di quello che arriva e salva lui, che cascano in pieno in questo tipo di messaggi, li captano e quindi molto spesso, semplicemente attraverso la promessa di un favore sessuale, perché poi neanche le gatte morte promettono quello che sono così abili nell'insinuarsi nella mente dei maschietti di turno privi di lucidità, che appunto neanche poi utilizzano la sessualità in maniera vera, appagante, diciamo concreta. Sono le classiche donne che in virtù di una possibile, futura ricompensa sessuale, ipotetica, vaneggiata e diciamo, fanno in modo che determinati uomini facciano tutto quello che loro vogliono. Quindi sono le classiche donne che non guidano, che si fanno raccompagnare all'andata e al ritorno, sono quelle che quando hanno il ciclo, oh mio Dio, è un evento da mettere sui giornali e soprattutto si paralizzano in casa e quando danno il ciclo molto probabilmente chiederanno aiuto in maniera indiretta e otterranno l'attenzione dei maschi del gruppo, che molto spesso non sono, sono pure in coppie, che quindi magari lasceranno determinate cose per andare dalla gatta morta a portarli alla spesa, ad aiutarla a cucinare, perché appunto hanno questo tipo di energia. Quindi sono le classiche donne che fingono di essere svenevoli, indifese, quelle che hanno bisogno di aiuto, per cui gli anni di lotta del femminismo per la parità e quant'altro non esistono e sono anche, per riconoscere, delle donne che generalmente hanno solo amici maschi, perché appunto a seconda di quello che gli serve, loro vanno a miagolare lamentandosi in giro per ottenere quello che vogliono. Sono delle persone estremamente egoiste ed estremamente, diciamo, opportuniste che caso strano si accompagnano sempre al fesso di turno. Purtroppo c'è questo da dire, dove c'è una gatta morta c'è un uomo poco intelligente che soprattutto ha problemi di autostima, perché appunto si accontenta delle briciole energetiche che la gatta morta gli dà, e gli dà vagonate di energia, anziché appunto rendersi conto di che cos'è l'amore, di che cos'è l'affetto, di che cos'è l'amicizia. Quando c'è una gatta morta in una comitiva, le comitive si sfasciano, perché le gatte morti hanno questo gusto molto sadico di seminare divisione, seminare zizzania e anche insinuarsi nei rapporti di coppia facendo le amiche con i maschi. Quindi fanno passare le donne come cattive, rompicoglioni, le fidanzate, le moglie, insomma storiche come cattive, rompicoglioni, loro invece sono leggere. Attenzione alle gatte morti, un altro modo per riconoscere, perché le gatte morti hanno questo grande potere di fare le muta forma, cioè quando hanno come obiettivo di acarappiare qualche maschio deficiente, con tutto il rispetto, di turno, faranno sì di polarizzare il loro aspetto fisico, ma anche la loro energia, sugli interessi di questo maschio, per fare in modo che da risultare come loro, ok? Quindi saranno quelle che fingono di interessarsi ai vostri interessi, che magari se voi fate yoga spirituali, se fate le vostre cose, diranno di essere yogiche spirituali, e ve lo dico per l'esperienza personale, magari vi diranno che si ricordano di voi in vite precedenti, instilleranno dentro di voi tutta una serie di cose che non esistono, semplicemente perché vogliono usarvi. Quindi vi prego, cercate di darvi una scossa, cioè se siete delle gatte morte, siete dei predatori energetici, voi avete trovato questo modo per sopravvivere, quindi io anziché consigliarvi di andare in terapia e di fare dei percorsi di autoconoscenza e di autoanalisi, non posso fare altro. Sicuramente venite da una situazione familiare squilibrata, sicuramente siete state le bambine di papà, avete presente le bambine del papà, quelle lì che facevano una lagnetta e facevano anche un piantino con gli occhi lucidi e il papà vi dava tutto quello che volete. Molto probabilmente voi gatte morti odiate vostra madre, siete in grandissima competizione con vostra madre e odiate anche tutte le altre donne, perché per voi la sorellanza, la condivisione, la sincerità, la lealtà e anche la possibilità di vivere dei rapporti interpersonali con le altre donne in maniera diretta, chiara e precisa non esiste. Voi pensate di essere più furbe e voi pensate di dover semplicemente prendere dagli altri, quindi anziché, cioè piuttosto non posso fare altro che augurarvi di trovare pace e di fare dei percorsi per voi. Io mi rivolgo a voi maschietti invece che siete caduti in questo tipo di dinamica, datevi una scossa, datevi una scossa, riprendete in mano la vostra energia e la vostra autostima e rendetevi conto che siete semplicemente manovrati da persone, da queste creature a cui non interessa nulla di voi, della vostra energia, vi stanno semplicemente usando e soprattutto vi stanno allontanando dalle persone che vi vogliono bene, molto spesso vi fanno litigare con i vostri amici, vi fanno litigare con le persone che vi sono state, vi stanno sempre vicine e che vi vogliono bene, guarda caso, per isolarvi e per fare in modo che l'unica campana, l'unica voce, tutto quello che arriva dall'esterno sia filtrato solamente da loro. Quindi è possibile scongiurare questo tipo di dinamiche energetiche se ci si vuole un po' bene, ma se si continua ad avere atteggiamenti masochisti, sadomasochisti, autolesionisti e di bassa autostima, chiaramente la gatta morta di turno avrà terreno fertile. Spero di essere stato utile, se ci sono delle domande potete farmele qui sotto, iscrivetevi al canale per favore, sarebbe anche ora, per qualunque domanda e curiosità io ci sono, un grande abbraccio e basta con queste gatte morte, siamo nel 2022, ancora abbiamo bisogno di rubare energia in questo modo, ancora abbiamo bisogno di trattare così male gli uomini, a voi vi rivolgo donne, poi parliamo di parità, su, coraggio, basta.